Più Metal Nerds! Questo video per parlarvi di una serie che ho visto recentemente si chiama Active Raid e adesso vi spiego il perché. Ci troviamo in un futuro non tanto distante. La città di Tokyo è stata sconvolta da un enorme frana che praticamente ha inglobato parte della sua area urbana e quindi ci troviamo con una città compressa di popolazione in cui diciamo che il degrado e quello che può essere la criminalità è in netto aumento. In una situazione d'emergenza il governo locale decide di attuare delle soluzioni drastiche per risolvere la situazione o quantomeno per contenerla diciamo. Per cercare di contenere la crescente ondata criminale viene sviluppata una unità particolare che in questo caso è l'ottava unità che dispone di mezzi particolari chiamati Will-Wear che sono degli esoscheletri meccanici avete presumo più o meno presente cosa sia un esoscheletro meccanico tipo Iron Man per capirci riprende molto di quello che è l'immaginario tipico di quel tipo di nazione perché comunque i giapponesi sapete benissimo che in molte serie sia live action o meno utilizzano spesso personaggi in armature o comunque costumi che sembrano armature per combattere i criminali. in questo caso si tratta di veri e propri esoscheletri quindi gli esseri umani sono perfettamente normali ma sono potenziati da questo esoscheletro come Iron Man quindi sostanzialmente quello che vi trovo davanti è un Iron Man giapponese sono tanti Iron Man in realtà perché è una squadra e ogni armatura ha poi le sue caratteristiche particolari vengono utilizzate proprio perché anche i criminali spesso sono dotate di questo tipo di tecnologia più o meno avanzata e per la polizia comune non è possibile sostanzialmente catturarli o comunque fanno parecchia parecchia fatica l'ottava unità è fondamentale in realtà per mantenere l'ordine purtroppo è un po' per l'esuberanza dei componenti un po' perché comunque Wilbur ha una potenza di fuoco e d'azione notevole finisce che praticamente fanno un sacco di danni nelle città, danni collaterali tutte queste cose che obiettivamente indispettiscono un po' anche l'opinione pubblica quindi di conseguenza il dipartimento di polizia e la politica poi che ha anche altri suoi problemi quindi viene mandato un personaggio esterno a fare da mezza spia e mezza unità di collegamento per capire se ci sono dei problemi specifici e come si possono eventualmente risolvere questo è l'incipit di base attualmente ci sono due serie non so se andrà avanti comunque sono due serie più o meno più conclusive quindi non è un grosso problema c'è una storia portante durante la serie e poi delle piccole storie che di solito si chiudono nella stessa puntata o al massimo in due puntate tutto comunque porta avanti la trama principale verso la conclusione della stagione quindi godibilissima quando avete un po' di tempo da guardare una puntata o due va benissimo tecnicamente è ben fatta nel senso che le animazioni sono buone sono valide non sono a livelli eccelsi comunque se la giocano piuttosto bene le unità e Will Weer sono comunque belli cioè il match design strezza molto l'occhio al classico di questo genere di tipo nipponico più che a quello diciamo marvelliano però è efficace come dicevo prima c'è Will Weer che può volare c'è quello che ha una potenza di fuoco maggiore c'è quello che ha una caratteristica magari peculiare per la mira insomma ognuno poi differenzia la cosa la cosa particolare è che per agire tutti i poveri sgraziati siccome appunto sono anche un po' sotto critica tutte le volte devono aspettare autorizzazioni perché c'è anche molta politica in realtà in active raid quindi non è che questi prendono parte o ne vanno loro partono e vanno ma poi prima di poter agire hanno bisogno dell'autorizzazione e del comune quindi c'è tutto una serie di piccole cose che creano se volete un po' di realtà ma anche di simpatia perché comunque sono messi lì anche un po' come fastidio e anche ostacolo chiaramente la cosa bella è come arrivano sul luogo sempre per un discorso anche di costi e siccome movimentare tutta sta roba è grande e pesante si è pensato di utilizzare le linee ferroviarie nel momento del lancio una unità particolare di questo che è un enorme treno viene accanciato a un treno ordinario della linea metropolitana di Tokyo si attacca viene trasportato più o meno in procinto della zona e poi una volta lì si sgancia e con delle catapulte vengono poi lanciati i we-weer è bello perché comunque indagra tutto molto bene anche nell'urbanizzazione di Tokyo ed ha anche l'idea del fatto che il treno è un sistema rapido ed economico per arrivare nella zona del problema sostanzialmente il tema portante di tutto l'anime rimane sempre il discorso degli intrighi politici e di quello che può essere visto come libertà piuttosto che regole insomma è abbastanza complicato i villan sono sempre persone piuttosto intelligenti che architettano piani abbastanza complicati ognuno con le sue motivazioni quindi si ha quasi sempre uno scontro con la manovalanza quindi chi manovra i we-weer diciamo avversari che quasi mai brillano per capacità e invece chi sta dietro che invece è solitamente una mente piuttosto brillante per architettare tutti i piani e quant'altro e questo rende tutto abbastanza dinamico perché porta avanti più livelli della storia sostanzialmente ma perché mi piace? ci possono essere diverse motivazioni perché mi piace è dinamica è divertente porta avanti molto anche le storie dei personaggi quindi approfondisce sia il lato più meca azione che quello invece più storia personaggi la cosa bella però è come viene realizzato il tutto c'è una chiave spesso anche un po' ironica di molte cose quindi trovate sia l'azione sia l'ironia ed è un qualcosa che mi piace tremendamente ma che mi ricorda Pat Labor la prima puntata che ho visto mi è subito venuto in mente Pat Labor perché è ok il discorso della polizia la si usano nei labor che sono più meca se vogliamo perché sono un po' più grossi qua si usano delle tute potenziate ma il concetto è lo stesso un'unità speciale della polizia che deve combattere contro problemi comuni contro avversari c'è il problema che comunque stai combattendo città non puoi fare che sparare tutte queste cose fa e un'ironia di base perché poi la situazione che si vengono a creare spesso sono comunque pericolose cioè c'è un po' di tensione ma i personaggi sono abbastanza scanzonati cioè non è mai preso tutto ultra seriamente anche se ci sono comunque anche lì dei momenti un pochino più seri diciamo e è per quello perché l'ho trovata una rivisitazione fresca di un genere che adesso attualmente vedo abbastanza poco ora è tutto tecnicamente bello è tutto esageratamente grosso ma spesso si sottovalutano i problemi più pratici e il rendere comunque leggero qualcosa che tutto sommato non deve essere per forza stupido perché poi ci sono anche delle serie similari ma che sono prettamente stupide ed è più fastidioso o eccessivamente serio che mi va bene in certi contesti ma non è che può essere tutto serio quindi questo l'ho trovato brillante perché sta proprio a metà quindi non è né pesante da una parte né esageratamente leggero dall'altra quindi godibilissimo in tutto e per tutto io gli do un bel setto e mezzo non grido al capolavoro però è bella godibile piacevole tutte e due le stagioni non perdono comunque di ritmo rimangono abbastanza fedeli a se stesso e sono qualcosa che almeno stacca un po' da quelli che sono i canoni classici del genere meca o quello che gli va dietro quindi io ve la consiglio e dategli un occhio tanto vi basta vedere le prime due o tre puntate vi rendete subito conto se è una cosa che vi può piacere attualmente in Italia è trasmessa da Crunchyroll ma è comunque sia la reperita insomma tutto quello che volevo da dirvi era questo cercherò magari di fare dei video su delle serie video abbastanza brevi dove vi spiego un po' altre cose e poi vedete voi se vederle o meno e poi magari sotto mi commentate si è piaciuta no non capisce un cazzo così almeno ci regoliamo e so anche dove andare a parare non è vero perché se mi piace la vedo se non mi piace la vedo comunque ok ragazzi tanta birra e prosperità alla prossima ciao ciao mi c'è più meta a a a Grazie a tutti